Ciao amici, oggi nel canale vi porto a scoprire il magnifico castello di Venetico grazie alle incredibili foto di Salvatore Grillo. Questa imponente struttura risalente al XV secolo si trova a Venetico nella città metropolitana di Messina. Il castello subì gravi danni durante il terremoto del 1908 riducendolo a un rudere. Negli ultimi anni sono stati avviati numerosi progetti per il suo recupero al fine di restituirli la sua antica bellezza. Cliccate sul pulsante di iscrizione per non perdervi nessuna novità sull'Italia. A presto!